ecco sembra un po antiquato mettermi a cantare questa cosa qua lo so che il partito comunista non esiste più purtroppo so che non esiste più tutto quello tutto quello che abbiamo vissuto tutto quel fervore adesso c'è altre cose io intanto direi che questo primo di maggio lo festeggiamo cercando di metterci nella testa che bisogna cambiare ma veramente e incominciando a fare qualche cosa per far cambiare veramente le cose sistema economico come si vive come finiscono questi poveri che hanno le minoranze quelli che non hanno di che vivere che non possono decidere insomma dobbiamo far cessare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ancora una volta ancora una volta e tanti auguri a tutti quanti